Siamo al campo di allenamento del Piacenza Calcio, oggi i Biancorossi hanno ripreso a lavorare e questo è il primo allenamento del nuovo arrivato a Massimiliano Pesenti. Allora Max, sei contento di essere tornato a Piacenza l'anno scorso e era a Pro? Sì, sì, sono molto contento e diciamo che ho fatto praticamente di tutto per venire qua perché per me Piacenza è una piazza importante e spero veramente di dare il mio contributo a risalire la classifica. Ecco, tu hai già incontrato appunto la Piacenza in giovane d'andata, una partita che è andata molto bene per voi. Che idea ti sei fatto di questa squadra? Ma secondo me siamo un'ottima squadra. Non so cosa possa esserci che magari non va bene una giocata, se poi il periodo magari perdi una partita ti sfiduci e magari poi non riesci più a fare le cose che magari all'inizio riuscivano a fare perché secondo me guardando la Rosa sono una squadra da puntare o i play-off se non magari anche la Serie B. Ecco, c'è appunto però questo problema del gol, si fa un po' faticato, tu sei stato chiamato per questo, una bella responsabilità, una sfida. Sì, sì, certo, a me piacciono le sfide però come dico sempre gli attaccanti vivono purtroppo di questi periodi. Sono periodi che la buttano dentro anche con la schiena o con l'orecchio, a volte magari sono periodi che neanche con le mani, come dico io, non la butti dentro. Quindi sì, sono venuto qui per cercare di dare il mio contributo, certo. Non è che magari sono arrivato io e facciamo, vinciamo e faccio tanti gol, capito? Sei tornato tu, la squadra ha ripreso il tuo gordo, ora dove può arrivare secondo te questo Piacenza? Di proclami io non mi piace tanto farli, però secondo me dobbiamo metterci sotto di impegno e cercare di risalire prima possibile nelle posizioni che contano e che questa squadra può ambire. Possiamo fare un augurio ai tifosi, si può puntare ai play-off? L'obiettivo sicuramente è quello, dico ai tifosi che ce la metteremo veramente tutta e daremo tutto per andare ai play-off e risalire alla classifica prima possibile. Grazie.